A proda all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la nuovissima apparecchiatura per la radioterapia intraoperatoria La Mammella, attiva in Abruzzo solo ed esclusivamente del nostro nosocomio fin dal primo giugno. Un risultato che riempie di soddisfazione il personale medico e la direzione sanitaria, orgogliosi stamane di presentare nella sala riunioni del nosocomio il frutto dello studio del progresso in campo scientifico e medico. La radioterapia intraoperativa, ci ha spiegato il direttore del reparto di senologia Alberto Baffile, si effettua concentrando una dose molto elevata di radiazioni direttamente sul tumore al momento dell'intervento chirurgico, consentendo al fascio di radiazioni di arrivare direttamente sul tumore. La IORT prevede un'unica seduta di radioterapia intraoperatoria, un vantaggio fondamentale per le pazienti che non dovranno più sottoporsi a un trattamento radiante della durata di sei settimane, ottenendo così un netto miglioramento nella stessa qualità della vita. Questa nuova tecnologia permette di completare o fare parte del trattamento a seconda delle indicazioni durante l'intervento chirurgico, cioè noi nei due giorni di ricovero facciamo la parte chirurgica e o tutta o parte, ripeto, del trattamento a seconda delle indicazioni durante l'intervento, quindi escono dopo due giorni avendo finito gran parte del trattamento necessario. Nel corso della cerimonia di presentazione dell'apparecchio ho proiettato anche un video del primo intervento realizzato con la IORT all'ospedale dell'Aquila il primo giugno. Altro aspetto di particolare rilevanza per il primo mese di interventi, per questioni prettamente di scrupolo e sicurezza, le sale operatorie limitrofe a quella dove si effettueranno interventi con la IORT resteranno ferme. Macchinario, dottore, immaginiamo costosissimo. Sì, questo sì, all'incirco un milione di euro, che è la regione Abruzzo, sotto una mia richiesta ormai di quattro anni fa, ci aveva dato già da prima del terremoto, purtroppo il terremoto ci ha bloccato per due anni, però adesso grazie all'impegno della direzione generale che veramente si è impegnata moltissimo per far ripartire l'attuazione di questo progetto, di tanti collaboratori. Un passo in avanti fondamentale sia per la rilevanza dello strumento in sé per sé, ha dichiarato il manager dell'ASLA, Giancarlo Silberi, sia perché ridurrà notevolmente nell'ambito dei trattamenti dei pazienti tempi e liste di attesa, avvalorando così il discorso di una piena ripresa per il nosocomio aquilano. Scegliere di migliorare la portata dei trattamenti medici, ha evidenziato Silberi, vuol dire guardare veramente a un futuro fatto di qualità. L'attrezzatura, peraltro, che era stata acquistata qualche tempo fa, è mai posta in opera per motivazioni di vario genere, e siccome consente di poter fare attività di radioterapia nel corso degli interventi chirurgici, è assolutamente importante. Quindi ci siamo premurati in questa fase di recupero di dare questo servizio ulteriore, ripeto, importante, al quale entro breve se ne aggiungerà un altro, sempre per quanto riguarda la radioterapia, è breve intendo dire qualche mese, pochi mesi.